Dovi sempre il numero 1, 10 euro, 15 euro, 20 euro, 30 euro. Prima o dopo devi uscire un numero 1 piazzato, no? E se succede che prende cosa fa? Ti indietro e vai avanti. Questo è il gioco. Non si regalano i soldi. Lui se seguirebbe uno che gioca ai soldi e si fida, potrebbe vincere. Glielo domandiamo. Ale, come mai non chiedi? Non credi nel proprio? Sì che credo. Lo dici davanti alla telecamera. Mi cambi questi? Facciamo questa scena fuori e poi ti lascio lì. Ah facciamo questa scena. Non lo riconosci? Sì è il mio. Come fate a trovarlo? Allora le regole del gioco le devi creare tu.